Nella puntata di questo 8 marzo, giornata internazionale della donna, sono lieto di avere come ospite al Sassonello Stagno una donna, è una donna di successo, che per due anni è stata indicata dalla rivista Foros tra le 100 donne, diciamo, più eccellenti, tra virgolette, del nostro paese per quello che hanno fatto nei vari settori, della scienza, dello sport, dell'imprenditorialità, della comunicazione. Ecco, la donna che sarà ospite del Sassonello Stagno, tra l'altro è una verbanese, è Manuela Ronchi, quindi avremo l'occasione di sentire una nostra concittadina che ha fatto successo, ma il successo non le è capitato addosso, è andata a cercarselo, a costruirlo con curiosità, con pazienza, con creatività, ha fondato un piccolo impero della comunicazione, nel quale lavorano tra l'altro una sessantina tra dipendenti e collaboratori. Cercheremo di capire con lei qual è l'importanza della comunicazione nel mondo di oggi, l'importanza, ad esempio, per lanciare un prodotto, ma anche l'importanza comunicativa in genere, e come si vanno sempre più a qualificare le comunicazioni nei social, ad esempio. Sicuramente, vista la capacità, la professionalità, la competenza e anche la simpatia dell'ospite, sarà una bella puntata del Sassonello Stagno.